Shistov Jelitsky è uno dei pochi uomini al mondo da aver salito tutti i 14 8 mila anche più di una volta tra le varie e anche in invernale. E' mai stato da questa parte? No mai stato Griglia ma spero che una volta vengo qua per fare le scalate che voi farete qua. Queste sono montagne un po più modeste degli 8 mila ma sono comunque belle no? Si anche noi abbiamo piccole montagne tatra dove abbiamo incominciato a fare scalate penso se montagne sono montagne sempre uguale certo non è importante quale come altre. Si non ho conosciuto ho sentito solo di generazione di Aoldi generazione di Masò Sorgato Fiusi Cassini altri ma ieri ho visto uno ragazzo di 77 anni che è molto forte anche ho visto le imprese che lui ha fatto prima vuol dire che ho grande rispetto a tutto che lui ha fatto in sua vita.